Procediamo all'appello. Giuliano, Bugliotta, Lazzaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stellitano, Tredicine, Tutino, Villa, e Vitrotti. Allora, presenti 17 consiglieri, assente la Presidente Fantino, più 7 consiglieri, abbiamo il numero legale, quindi possiamo aprire la seduta. Nomino a quale scludatore i consiglieri? Cofano, Poli e Carloni. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previ a comunicazione alla Presidenza. Grazie, grazie. La proposta è quella di non fare più il Consiglio martedì, ma giovedì pomeriggio sarebbe giovedì 26. se non ci sono da parte dei capigruppo con osservazioni su questa cosa, la diamo per acquisita, quindi il Consiglio non è più un martedì 24, ma giovedì 26 alle ore 14.30. Va bene? D'accordo? Mi sembra di no. Comunque, prima di procedere l'ordine del giorno sono state presentate due mozioni, l'articolo 58, una era stata presentata anche precedentemente dal Consigliere Tutino che poi era stata ritirata durante il Consiglio per poterla valutare nella Commissione preposta. Il Consigliere Tutino l'ha ripresentato oggi sempre come articolo 58. Un'altra, una mozione sulla riapertura dei servizi della Mediateca Rossellini, qui a Cinecittà, firmata dai consiglieri, se leggo bene, la Daca, Benassi e Quigliotta. Io acquisisco queste due mozioni, l'articolo 58 le porto in discussione, diciamo, non ritenendo l'urgenza di poterla discutere oggi, nel prossimo Consiglio. Grazie. Allora, andiamo con l'ordine del giorno. Primo punto, proposta di deliberazione per espressione e parere sulla proposta di modifica della linea 665, Trasporto Pubblico Locale. Su questo è stato presentato un ordine del giorno fatto proprio dalla Commissione, firmato dal Presidente della Commissione, ma diciamo, rispecchio l'orientamento di tutta la quinta Commissione, Mobilità e Lavori Pubblici. Allora, e... Assessora? Prego. Presidente del Consiglio, consiglieri, questa espressione di parere rispetto alla linea 665, come abbiamo già più volte approfondito in Commissione, si è rendere necessaria, perché all'interno della razionalizzazione del trasporto pubblico locale su gomma, che Roma Capitale sta facendo, anche in previsione, in alcuni quadranti della città, dell'apertura a step della linea metro C, c'è stata una forte spinta da parte del territorio, dei consiglieri stessi, perché nell'ambito della razionalizzazione del deposito di Portimaccia, a cui la linea 665 faceva capo, c'è stata una richiesta forte, dicevo, che potesse prevedere un mantenimento più forte della vecchia percorso del 665, a fronte della proposta che ci è stata fatta e che abbiamo accettato da parte dell'Agenzia della Mobilità, di ATAC, del Dipartimento Mobilità, quindi di Roma Capitale, che prevedeva un miglior servizio sull'assa Sisi, non c'era Umbra, della stessa linea. Che cosa prevede questa delibera? Questa delibera prevede di recuperare parte del percorso che la linea 665 svolgeva a servizio soprattutto della zona, diciamo, di Villa Fiorelli, Piazza Ragusa. La modifica che l'Agenzia della Mobilità ci propone è, diciamo, non esaustiva di quelle che sono le esigenze del territorio e le richieste del territorio, diciamo, è parziale. La Commissione, personalmente, anch'io ho condiviso con la Commissione, accetta questa modifica, ma chiede ulteriormente con un ordine del giorno che è stato, come dire, elaborato in Commissione e che sarà proposta all'attenzione dell'Aula, comunque di recuperare un ulteriore tratto della linea 665 che precedentemente, fino a giugno scorso, svolgeva. Cosa voglio rappresentare ai consiglieri? Io credo che noi, prossimamente, con l'apertura della linea Lodi, al di là di quello che abbiamo già ragionato tra di noi in Commissione di una possibile e potenziale linea tangenziale che, negli ipositi dell'Agenzia della Mobilità, possa prevedere un collegamento su ferro in superficie che vada dalla stazione di Burtina, passa attraverso Via Lodi, San Giovanni, fino a Ostiense, recuperando e cercando di decongestionare quelle che sono le fermate centrali delle linee metro della nostra città, di rivedere, proprio con l'apertura dei Lodi, diciamo, possibilmente, anzi, nell'ordine del giorno lo richiama, la mobilità su gomma dell'intero quadrante, perché è chiaro che anche la fermata di Lodi, e lo sarà ancora di più quella di San Giovanni con lo scambio, possono modificare quelle che sono le esigenze, le convenienze rispetto al trasporto di superficie delle aree circostanti, prevedendo l'adduzione alla linea su ferro, così come prevista pure dalle politiche, dagli indirizzi che il PGTU prevede, come dire, condizionando, ma soprattutto razionalizzando il trasporto su gomma, adducendo il massimo dell'utenza verso le linee su ferro. Ecco, questo è in poche parole lo scenario che abbiamo di fronte, per cui personalmente, la Giunta, la Commissione, esprime parere favorevole su questa modifica aggiuntiva, anche se non esaustiva, da parte dell'Agenzia che ci viene, da parte dell'Agenzia della Mobilità e con la richiesta che è prevista nell'ordine del giorno di un ulteriore come dire, servizio di percorrenza da aggiungere alla linea del 665 in modo da poter ancora meglio servire il quadrante di Villa Fiorelli, tenendo conto del sviluppo della rete di trasporto e senza nasconderci qual è la situazione della trasporto e dell'azienda di trasporto locale della nostra città. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire su questo? Consigliere Cofano, prego. Grazie, Presidente. A seguito della discussione che si è svolta la Commissione da me preseduta nelle scorse sedute in merito alla proposta di modifica della linea del trasporto pubblico rispetto al bus 665. La Commissione si è espressa favorevolmente come è stato già citato dall'intervento dell'Assessore amplificando però quello che... Presidente, un attimo, prego. No, stavo con il microfono acceso, quindi si sentiva tutto. Prego. Grazie, Presidente. il lavoro che si è svolto in Commissione ha preso atto di quello che è stato comunque un elemento positivo e che secondo me crea comunque un precedente rispetto a quella che è stata la gestione fino ad oggi del coinvolgimento dei municipi rispetto alla razionalizzazione del trasporto pubblico ossia quello che comunque la gestione della mobilità ha registrato quelle che erano le esigenze che venivano dal quadrante coinvolto in questo caso Villafiorelli Piazza Ragusa e le vie limitrofe per cui questo lo ritengo un fatto positivo e un fatto che ribadisco possa essere anche un propulsore futuro per un maggior coinvolgimento soprattutto visto che è considerato che non ce lo nascondiamo ma quest'aula si è già espressa in più occasioni l'Atac sta gestendo una programmazione di razionalizzazione di tutti i depositi di questa città e chiaramente razionalizzazione bisogna scongiurare che razionalizzazione diventi esclusivamente tagliare questo è un po' diciamo il nodo centrale della discussione e ritengo che rispetto alla razionalizzazione del deposito di Portonaccio che è stato anche votato da quest'aula e rispetto alla rivisitazione anche della linea 665 questa diciamo idea di razionalizzazione è stata governata viene governata tuttora e ritengo sia stato fatto un buon passaggio detto ciò avrò modo di spiegarlo poi nell'intervento successivo rispetto all'ordine del giorno la commissione ha ritenuto opportuno e doveroso a mio avviso coinvolgere ed è stata coinvolta direttamente dal comitato del quadrante il comitato di Villa Fiorelli che già negli scorsi anni aveva lavorato ad una petizione che chiedeva comunque un recupero di quella parte del percorso e quella petizione comunque ha avuto la voce di 500 persone e ritengo che come municipio come commissione non potevamo non ascoltare questa questa energia che veniva dai cittadini nel merito dell'ordine del giorno interverrò dopo per cui ritengo che rispetto alla delibera il parere positivo dell'aula si possa manifestare come è stata data in sede di commissione grazie grazie a lei consigliere Lancia prego sì presidente consiglieri buongiorno volevo semplicemente dire che noi che questa delibera è una forma di riduzione del danno un danno che è stato operato per accontentare giustamente i cittadini della parte alta di via Sisi ma sguarnendo un altro quadrante che non ha altri strumenti per muoversi quindi diciamo questa delibera migliora leggermente la situazione che è stata creata non so bene da chi però vorrei che nel prossimo futuro non si tirasse la coperta di qua cioè se c'è da fornire il servizio in un'area sguarnita non lo si può fare a spese di un'altra area che viene a sua volta sguarnita inoltre penso e spero che l'assessore si farà carico di insistere con Atac per avere un allungamento della linea fino a via di Montepulciano almeno e poi non so se nel futuro quando sarà aperta la stazione Lodi questa potrebbe anche diventare una navetta che collega la metro A con la metro C quindi in questo senso sono favorevole anche alla delibera perché riduce leggermente il danno che è stato fatto spero che l'assessore porti avanti le richieste inserite nell'ordine del giorno però mi auguro che nel prossimo futuro noi non non ci prestiamo a sguarnire i cittadini dei servizi che già hanno magari per guarnire un altro settore del municipio cerchiamo di ottenerne di più non di spostarli da una parte all'altra grazie grazie a lei consigliere Aloncia altri interventi consigliere non è che mi abbia convinto dall'inizio mese di luglio ha visto tagliare questa cordicella di 13 chilometri che è stata istituita prevalentemente per servire alcune zone scoperte prive di un servizio come anche quelle di via Sisi io riconosco che è giusto dare a chi non ha ma ritengo assolutamente sbagliato ledere diritti già acquisiti piccoli grandi io vi cito solo delle vie del quadrante via Melfi via Oristano via San Mignato via di Villa Fiorelli via Montepulciano via Città Ducale via Mirandola via Pescara naturalmente poggiavano molto su questa linea che toccava quell'ambito quel bacino dal mese di luglio che non hanno più questo servizio quindi va detto dal mese di luglio non c'è più questo servizio in quel quadrante io ringrazio l'assessore che si è attivato per come dire per la possibilità di essere minimamente accorciato a Piazza Ragusa però è una situazione che onestamente non risolve il problema io non penso che l'Atac mettendo 400 metri in più possa salvare il bilancio che io non penso che possa proprio con 400 metri in più girando da via della stazione tuscolana via Montepulciano scendendo di nuovo per via Enna non è che mandiamo in dissesto l'Atac o questo sia stato un motivo per mandare in dissesto l'Atac assolutamente quindi mi auguro che ci possa essere sì noi presenteremo un ordine del giorno collegato che tutti quanti sanno il valore di un ordine del giorno figuriamoci io ritenevo corretto prima di non trare la richiesta di arrivare a via Assisi per tutto quel percorso su in cima gira a destra e scende di nuovo dove ripassa la stessa linea del 16 di contenere per lo meno la proposta del comitato che aveva fatto era quello di tagliare sì ma da una parte e dall'altra si veniva quindi l'auto arrivava a via Assisi ma manteneva il percorso un po' ridotto su via della stazione tuscolana perché arrivare a via Montepulciano vuol dire ridurre non vuol dire sempre ridurre rispetto alla billetta dove arrivava prima non entro in merito ad altre scelte che sono state fatte per chiederla perché qualcuno l'avrà chiesto di portarla a via Assisi c'è una richiesta che l'altra volta ho portato sul tavolo della commissione c'è una richiesta antica ma c'è c'è stata una richiesta quindi il municipio questa è una linea che nasce perché il municipio l'ha richiesta quindi è ovvio che il municipio deve conoscere bene il territorio e dire è necessario arrivare in cima c'è un doppione il 16 è un doppione da una parte o un doppione dall'altro via Assisi necessita ma via Gubbio era la strada su cui doveva percorrere il 665 innanzi alla scuola per ragionieri e commerciali ed è giusto che ci arrivi quindi i 400 metri erano guadagnati per arrivare a via Montepulciano questa era la proposta fatta dal comitato Villa Fiorelli in sintesi col disegno e con tutto il resto scritto appena era questo che chiedevano siccome qualcuno è partito prima ci ritroviamo a rincorrere qualcosa che non è corretto fare cioè perché adesso non stiamo rincorrendo una soluzione per riportare la piazza la cusa poi cioè no un progetto si fa correttamente dall'inizio caro assessore e se trova delle cose che non vanno bene a tutta l'autorità per cambiarle o meglio per studiarle insieme ai consiglieri deliberare un atto prima che ci arriva la proposta da parte dell'ATAC grazie io mi condivido per ora ma non mi sento soddisfatto di quello che ha fatto della concessione che ci ha fatto l'ATAC e nel tanto meno del cammino che ha intrapreso il municipio nel reprimere questo servizio grazie 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 consigliere ciancio consigliere giuliano prego bene grazie presidente allora mi viene spontaneo questo intervento in quanto verificando ovviamente la necessità di intervenire in una delibera che viene dall'amministrazione per cui nel meccanismo generale di Roma Capitale che si trova a dover intervenire soprattutto nell'azienda ATAC ha una rimodulazione ha una ha una soppressione ha una modifica di alcune linee dove si tolgono dove si allungano dove si cambiano se se cancellano quindi a noi ci arriva il 665 io però essendo parte da essendo parte della commissione ho verificato insomma il percorso quindi non posso dire che non c'è stato comunque da parte della commissione con presenti anche il comitato che giustamente ha espresso le richieste le necessità perché questo è anche normale è anche dovuto i comitati di quartiere devono dare il loro contributo devono dire quale possono essere le sensazioni territoriali poi logicamente bisogna fare come si dice il conto con chi governa e gestisce in questo caso ATAC che ci porta una modifica che per l'asset aziendale era obbligatoria dopodiché è normale che tutto sarebbe meglio se ci fosse comunque un qualcosa che ricalca perfettamente le richieste del territorio noi stiamo qui per questo motivo stiamo cercando cioè cerchiamo in ogni volta in ogni documento di dare comunque supporto al territorio dove serve e quando serve poi abbiamo tutti comunque in commissione verificato che c'è un mix quindi si cerca di si è cercato comunque di intervenire cercato di modificare cercando di trovare una soluzione tra l'azienda e la parte necessità territoriale e la commissione nonostante fosse comunque sia no contenta non avendo trovato risultato al 100% però era già un buon base di partenza con la promessa che nella fase successiva si sarebbe comunque tenuto conto del fatto di migliorare poi il percorso dalla parte che il collega Ciancio diceva quindi Montepulciano via Mirandola eccetera eccetera e quindi ovviamente la parte che sta su verso Villa Fiorelli però poi questo qui si me le sono scritte questo qui ovviamente però è evitare che esua dal fatto che poi dopo bisogna fare un intervento cari colleghi che erano hobby insomma abbiamo fatto una commissione adesso portare in ordine del giorno a noi particolarmente come fratelli dell'Alleanza Nazionale ma penso comunque da parte dell'opposizione non è che cambi molto noi stiamo per dare il contributo ci mancherebbe altro se questo è quello che ci propone insomma chi di dovere abbiamo cercato di comunque migliorarlo a quanto sembra Assessore però poi io non non capisco certe battute no? qualcuno è partito prima chi? chi è partito prima? poi quando sento queste battute così a me me lascia da consigliere me lascia un po' la mano in bocca perché dico allora abbiamo ottenuto risultato non è il massimo si è parlato col comitato intanto questo può essere una cosa che comunque ci dà soddisfazione con la promessa di andare oltre perché non ci mancherebbe altro se uno io non posso immaginare che qualcuno della parte istituzionale possa dire no 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 io se posso migliorare io non lo miglioro mi viene da ride però poi dopo qualcuno è partito prima a chi? io vorrei sapere faccia la domanda chi è partito prima? l'autobus è partito prima? no? chi è partito prima? l'auto allora cioè se poi dobbiamo fare queste polemiche esterili quando si trova una convergenza troviamo la convergenza e quindi lavoriamo poi per migliorare quello che sarà avendo lo strumento a disposizione appena ce lo metto a disposizione come si dice appena la palla rimbalza noi la calciamo ma adesso è quello che potevamo fare quindi ultimi commenti non mi trovano d'accordo cioè sfumature che non mi trovano d'accordo l'importante è portare a casa questo risultato parziale parziale ma è una base di partenza oppure se decidiamo di fare una battaglia su questa cosa la dobbiamo fare senza se stessa quindi ci mettiamo a dire andiamo a dare che non ci sta bene che tu oggi si arrivi a Piazza Ragusa devi arrivare a Villa Fiorelli è un altro ragionamento però però è un'altra base è un'altra base di partenza è un altro supporto diciamo da trovare un altro ragionamento ma questa è la delibera che ci torna per cui oggi questo è sicuro e domani si fa quello che si può fare poi se mettiamo a fare polemiche siamo buoni a fare polemiche questo voglio dire se dobbiamo essere contributivi cerchiamo di essere grazie consigliere Giuliano altri interventi non ci sono allora passiamo adesso alla presentazione dell'ordine del giorno prego consigliere Cofano sì grazie presidente come è stato già ribadito la commissione ha ravvisato la necessità di elaborare quest'ordine del giorno allegato proprio per fare in modo che venga recuperata quella parte del percorso del 665 che veniva svolta e praticata a favore comunque del quadrante di Villa Fiorelli Piazza Ragusa l'ordine del giorno tiene conto dell'ampliamento del della che la nazionalizzazione del trasporto pubblico locale comunque prevede anche un ampliamento del servizio del trasporto pubblico locale su ferro il che è un ulteriore elemento positivo di discussione mette al centro della discussione il tema dell'apertura della fermata di Piazza Lodi della metro C che è un tema fondamentale per quella che poi è la rete integrata della mobilità di quel quadrante lì per cui con questo ordine del giorno noi chiediamo e chiediamo che venga preso assolutamente in considerazione da parte dell'agenzia della mobilità che in virtù di quell'apertura l'intero quadrante venga rivisitato dal punto di vista dei collegamenti per il trasporto pubblico locale oltre alla rivalutazione nel quadrante interessato per cui da via della stazione Tuscolana via Casina Vecchia Piazza Lodi Villa Fiorelli è opportuno prolungare comunque la linea del 665 fino a via Montepulciano questa necessità è stata ampiamente manifestata anche dai membri del comitato di Villa Fiorelli che sono stati assolutamente propositivi e determinanti in sede di discussione nella sede di commissione per cui l'ordine del giorno ruota intorno a questo obiettivo l'obiettivo principale è quello di rivalutare la mobilità di quel quadrante in virtù dell'apertura della fermata di Piazza Lodi della Metro C i commissari hanno considerato l'ordine del giorno lo hanno valutato l'abbiamo elaborato anche con alcune proposte che sono venute e le abbiamo integrate per cui ritengo che sia un atto che possa passare con forza da parte di tutti i consiglieri presenti in aula grazie allora sull'ordine del giorno non c'è discussione ma solo dichiarazione di voto una per ogni gruppo allora sull'ordine del giorno ci sono dichiarazioni di voto allora non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione chi è favorevole all'ordine del giorno non si può scusate per favore si facciamo la controprova facciamo la controprova allora facciamo la controprova chi è contrario nessuno chi si astiene nessuno per favore allora 20 voti a favore nessun contrario nessun astenuto quindi la proposta è approvata dichiarazione di voto sulla proposta di parere allora ci sono dichiarazioni di voto consigliere Tutino di Stacifica Marino prego grazie presidente assessore consiglieri la lista Civica Marino vota favorevolmente alla delibera riteniamo che sia frutto di un lavoro molto ben fatto che ha rimediato la situazione precedente in cui erano stati operati dei tagli sulla linea si è raggiunto un buon risultato e anche l'ordine del giorno con la prospettiva di riunire la rete al trasporto su ferro è certamente una buona prospettiva una buona indicazione per Atac chiaramente nel momento in cui avverrà il completamento anche della stazione Lodi quindi ci sembra il frutto di un buon lavoro collettivo sia di un buon lavoro della commissione sia di un buon lavoro della giunta e voteremo favorevolmente grazie altre dichiarazioni di voto ci sono altre dichiarazioni di voto no passiamo alla votazione ecco no speriamo di no allora passiamo alla dichiarazione di voto chi è favorevole 3 4 6 6 6 6 6 8 6 7 9 20 20 20 ah no 21 21 Allora, 20 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto, quindi la proposta è approvata. Allora, adesso passiamo al primo, ma ero dimenticato di dire che c'era un'altra mozione d'articolo 58, riguardante, firmata da diversi consiglieri, Matrona, Carlone, Tretiscine, Cerconi, Carloni, La Notte, Giuliano, riguardante, riguarda il nuovo logo di Roma, anche questa, chiaramente non la ritenco urgente, va al prossimo consiglio. Utile. Allora, passiamo al secondo punto, all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione a renta d'oggetto, riconoscimento della recettività, riconoscimento della recettività del debito fuori bilancio, riguardante il pagamento della fattura all'impresa Vivaio Torrecaia. Prego, Assessore. Consiglieri, sapete benissimo come sono questi riconoscimenti di legittimità di debito fuori bilancio, sono atti dovuti, nella specificità del caso, per un mero errore materiale, nell'impegno dei fondi che riguardavano questa azienda che aveva svolto servizi per il municipio sul verde, c'è stato un errore per cui è stata impegnata un importo inferiore a quello che era dovuto. questo importo è stato messo a disposizione dall'amministrazione di Roma Capitale, per cui si potrà precedere la sua liquidazione, e quindi, come sapete bene, da norma e da regolamento, approvare questa delibera per dare il via libera al pagamento del dovuto del servizio reso dall'azienda. Grazie, Assessore. Allora, ci sono interventi. Consigliera Cacco. Buonasera, Vicepresidente, Presidente, Consiglieri. Solo per dire che questa proposta di deliberazione è stata portata in commissione bilancio, dove abbiamo avuto l'assistenza degli uffici, per la quale la proposta è stata espressa un parere favorevole. visto che questi debiti fuori bilancio sono sanciti dal testo unico degli enti locali, nel decreto legislativo 267 del 2000, che attribuisce al Consiglio Municipale il compito di ratificare e riconoscere la legittimità di questi debiti fuori bilancio. Si chiamano così perché sono debiti che o maturano da meri errori materiali, come in questo caso, o maturano da spese non prevedibili, come vedremo dalla delibera che viene subito dopo, per i quali o non c'è stato l'impegno fondi, oppure l'impegno fondi è stato inferiore rispetto a quello dovuto, e quindi non risultano nel bilancio di conseguenza. Abbiamo visto che ci sono i pareri favorevoli del direttore del municipio, in commissione abbiamo appunto potuto accertare che ci sono i pareri favorevoli del direttore del municipio, del direttore tecnico, del dirigente della ragioneria, per cui la commissione ha dato un parere favorevole. Grazie. Grazie, consigliera Caccamo. Altri interventi? Consigliera Lozzi, prego. Personalmente il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto né per questo né per il successivo, perché siamo un po' stanchi di essere chiamati in causa come consiglio solo per pareri meramente formali, invece sulle cose serie il Comune non ci prende mai in considerazione. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ci sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? No? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è schieme? la ragazza che fa? la ragazza che fa? la cerconi che fa? cerconi? no no, cerconi non partecipa a qualcuno però bisogna dirlo allora non è che si può stare allora allora e non è pur presente non partecipa non partecipa a qualcuno se sei presente bisognava dire il suo museo se sei presente partecipa no no come tutti non lo dice sempre scusate però noi facciamo polemica su questo allora scusate 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 3 astenuti 12 favorevoli 3 astenuti e 5 non ci stanno allora 12 voti a favore 3 contrarie 3 astenuti e 5 non ci stanno ripetiamo 12 voti a favore 3 astenuti l'atto è approvato passiamo all'altro punto sempre il riconoscimento della recettività e debiti fuori bilancio riguardante pagamento della fattura in presa, rivaglio, torregaia no 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 l'abbiamo fatto il condominio anche perché io sono prima scusate scusate votiamo per l'immediata esecutività di questo atto che è favorevole allora allora non è concesso allora perché? perché ce ne vanno 13 allora l'immediata esecutività non è approvata allora adesso passiamo perché per l'immediata esecutività sono necessari 13 voti allora sono 12 allora passiamo all'altro punto scusate all'altro debito fuori bilancio scusate scusate però se se i consiglieri stanno per cortesia però ripetete allora scusate il consigliere Cugliotta per cortesia quando si vota richiedo di stare o state in aula a vostro posto o state fuori dall'aula almeno quanto si vota non è possibile allora rimetto scusate rimetto in votazione l'immediata esecutività chi è favorevole? 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 4, 6, 8, 10, 13, no non c'è Rastelitano allora 13 voti a favore quindi l'immediata esecutività cioè passiamo al secondo debito fuori bilancio riguardante dicevo il controllo che vi capo sono 14 ma come contate? scusate scusate no per capire perché se no è scritto perché ci sono 14 contate bene sapete contate ecco ma non c'è la paura 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 loro sono felici e facevilla qualsiasi ripeto per l'ultima volta quanto allora scusate quanto almeno quanto si vota prego consiglieri di stare al proprio posto non è possibile grazie 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 infatti anche anche la delibera non rispecchia il numero dei voti scusate sono sempre uno in mano guarda io l'ho detto anche qualche altra volta i primi elementari forse sono un pochettino più corretti allora rimetto sono costretto scusatemi a rimettere in votazione la delibera prima e poi l'immediata esecutività allora chi è favorevole alla delibera scusate per cortesia poi dicevo signore non c'entra niente 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 14 14 14 voti favorevoli sono scusatore lo posso pure dire l'unico che fa lo scusatore rimetto in votazione l'immediata esecutività chi è favorevole? allora 14 voti favorevoli e 3 astenuti allora passiamo al secondo punto adesso è il terzo punto non passeremo l'azienda che non ci sia allora dicevo io riguarda condominio di via delle cape Presidente scusi Presidente scusi prima che dà la parola vorrei dire una cosa la problematica che abbiamo visto adesso succede perché non c'è la cosa elettronica era previsto la prego di battere i pugni i soldi ci sono questo succede perché la gente non sta al proprio posto è differente Presidente consiglieri scusate per questa delibera sempre di importi di debiti fuori bilancio riguardano addirittura non un errore materiale ma una sentenza del Tribunale di Roma a favore del condominio di via delle cave 82 per un importo complessivo di 934 euro vivi e 16 per i danni arrecati c'è nulla di aggiungere se non quello che in maniera puntuale la consigliera Caccamo Presidente della Commissione aveva esplicitato prima grazie grazie Assessore allora ci sono interventi? no ci sono dichiarazioni di voto? no passiamo alla votazione allora chi è favorevole? scusate per cortesia per cortesia chi è contrario? nessuno chi si astiene? 13 4 3 voti a favore 3 astenuti nessun contrario quindi adesso mettiamo in votazione anche per questa l'immediata esecutività chi è favorevole? chi è contrario? chi si astiene? il fuori bilancio è passato 14 voti a favore 3 astenuti quindi l'immediata esecutività è stata approvata passiamo adesso ai verbali sapete che ai verbali scusate per cortesia consigliere Giuliano consigliere Giuliano per cortesia io per quanto riguarda i verbali norme di regolamento sapete che i verbali sono stati messi a disposizione presso l'ufficio consiglio potevano essere visionati retti studiati quindi non vanno in discussione i verbali neanche vanno votati vanno se non ci sono osservazioni contestazione si danno per letti e quindi si passa alla provazione allora ci sono osservazioni su questi bilanci consigliere Lozzi prego allora noi abbiamo visto i verbali che come al solito non racchiudono nulla ritorniamo a tirare fuori praticamente il problema che non è una polemica nei confronti degli uffici ma è dare un senso a una verbalizzazione in una seduta pubblica dove si dà atto del lavoro che noi stiamo facendo e per il quale anche percepiamo dei gettoni di presenza dei verbali così scarni non possono dare un significato all'attività del consiglio quindi le cose sono due o al verbale viene allegato un cd con la registrazione del consiglio anche solo audio e allora ha un senso ma approvare dei verbali in questo modo dove all'interno non si evince nulla di ciò che è avvenuto secondo me è una cosa assolutamente ridicola consigliera Cercoli oltre a condividere ciò che ha detto la consigliera Lozzi a me dispiace perché probabilmente come facciamo a ricordarci delle cose che sono successe un anno fa del 2013 infatti il problema è proprio questo io faccio presente questo perché l'ho già fatto presente altre volte secondo me secondo il gruppo consigliere Fratelli d'Italia i verbali devono essere approvati entro un mese sia quelli del consiglio quelli dell'aggiunta e come avviene già per quelli delle commissioni perché serve dare continuità a quello che viene fatto ora non viene data colpa alle segretarie che probabilmente sono berate di lavoro per non poterli fare ma dobbiamo assolutamente trovare una soluzione perché approvarli un anno dopo è impossibile grazie sono tutte osservazioni sicuramente recidibili anche condivisibili anche condivisibili chiaramente gli uffici vanno dotati di strumentazione di risorse umane e regolamentari anche adatte però credo che stanto così la situazione per adesso non si può fare diversamente conservatore che c'è signor Presidente buongiorno buongiorno a tutti meno che Rocco Seritano perché non mi sembra il caso di salutarlo signor Presidente le chiederei gentilmente un attimo di sospensione per visionarle almeno così in linea di massima visto che stanno sopra e no così si approva qualcosa che non è approvabile e lei capisce non è possibile la cosa del genere perché sarebbe cominciare a dire sarebbe cominciare a dire il consigliere interroga l'assessore risponde e il consigliere replica cioè non ci abbiamo allora sto perdendovi tre minuti mi consenta mi chiamo i Ponte Rompi è capito lei è il presidente del consiglio e io sono il presidente del gruppo consigliare quindi manteniamo le distanze allora allora il discorso vale allora il discorso vale mi sta suggerendo il discorso è un altro siccome io già l'ho detto io già l'ho detto ridetto io tempo proprio tanto tempo fa quando per la prima volta siamo approvati in aula e dopo circa tre mesi adesso dopo un anno però la quarta volta dopo tre mesi quattro mesi siete arrivati portando dei verbali dove c'era scritta l'interrogazione l'assessore Morgia lo ricordo sempre Morgia non è via no c'era un'interrogazione dell'assessore Morgia e mi ricordo che io interrogavo l'assessore Morgia lui mi ha risposto mi ha detto un sacco di belle cose beh quando al momento dell'approvazione verbale c'era scritto il consigliere Morgia Morgia l'interrogazione l'assessore risponde e il consigliere replica si può approvare un verbale del genere e non è così poi se lei vuole fare se lei vuole fare secondo il regolamento un colpo di Stato se lei vuole fare un colpo di Stato e andare contro la democrazia allora lei si può votare tutti i verbali di questo voto si canti e si suoni signor Presidente e se la balli pure con questo signor Presidente della Stato i verbali sono approvati grazie allora l'approvazione del verbale avviene previa lettura alla quale può derogarsi se il verbale è messo a disposizione dei consiglieri presso l'ufficio di segreteria almeno 24 ore prima sono 48 se non sorgono osservazioni specifiche consigliere ma troppo è cortesia se non sorgono osservazioni specifiche particolari di merito il verbale si intende approvato grazie i verbali sono approvati consiglio chiuso